Un grande accoglienza per te oggi, ti aspettavi tanti tifosi, tanto amore per te e per l'Udinese. Sì, è un bel momento, sono grato ai tifosi, adesso è sabato. Ormai sei il primo portiere, idolo dei tifosi, hai rinnovato fino al 2028, qual è il tuo prossimo obiettivo? Vincere contro Lazio, facciamo tutto passo dopo passo, settimana per settimana. Un'ultima domanda riguardo a quello che stai dando in campo, subito protagonista Bologna, come ti senti e senti che adesso finalmente sei sempre più protagonista? Sì, sento molto bene, abbiamo lavorato tutti insieme, specifico con il mio allenatore di portiere, ma anche il nuovo mister, lui è molto bravo. Sì, abbiamo lavorato e adesso dobbiamo mettere sul campo. Dove può arrivare questa Udinese? Scusa? Dove può arrivare questa Udinese? Dove volete arrivare? Eh, vogliamo arrivare dove Udinese è più in alto possibile. Sì, 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 quest'anno possiamo fare bene. Io credo, io credo in questo. Grazie Moduca. Grazie a voi.